Buongiorno a tutti voi, bentrovati al TG2000 edizione di Mezzogiorno, subito i temi oggi in primo piano. Attacco alla Siria, dopo i raid aerei la Turchia spara anche via terra sul nord del paese, nel mirino i kurdi colpite, basi di terroristi, dice Ancara a fermare subito le armi, chiede l'Europa, stasera si riunisce il Consiglio di Sicurezza ONU. La politica oggi in Consiglio dei Ministri, il decreto ambiente, incentivi fino a 500 euro non solo per l'abbonamento ai mezzi pubblici ma anche per chi compra una bicicletta, cantiere aperto sulla nuova legge di bilancio in arrivo, taglio del cuneo fiscale e salario minimo orario. I cartelli della discordia, cambia la scritta sui segnali che indicano una zona a traffico limitato, il Ministero toglie la parola varco attivo oppure varco non attivo, presa alla lettera significava l'esatto contrario, al posto di varco ci sarà ZTL attiva, ma i dubbi rimangono. E in apertura dunque partiamo dagli esteri con l'attacco sferrato dalla Turchia contro la Siria dopo i raid aerei, stamattina anche l'artiglieria nel mirino il nord abitato dai kurdi che gridano al genocidio civili in fuga. Da Mosca all'Europa la preoccupazione del mondo attesa per la decisione di stasera del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Leonardo Possati. Russia Line, confine tra Turchia e Siria, alle prime luci dell'alba inizia il bombardamento da parte dell'esercito turco. Dopo il ritiro delle truppe statunitensi, la striscia di terra a 100 km tra la città di Russia Line e Tel Abyad, confine nord del Kurdistan siriano, è sotto attacco. Migliaia di persone stanno fuggendo per salvarsi dai bombardamenti aerei rilanciati dall'aviazione turca e dagli attacchi dell'esercito appoggiati da fazioni dell'opposizione siriana. Finora, stando a fonti turche smentite dai siriani, sono stati conquistati diversi villaggi e molti militanti kurdi del PKK sono stati uccisi. La comunità internazionale inerte e impotente riunisce il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su richiesta di Gran Bretagna, Francia, Germania, Belgio e Polonia. Intanto il presidente turco Erdogan va avanti sulla sua strada e mette a tacere le opposizioni interne. La procura di Ancara ha aperto un'inchiesta per propaganda terroristica nei confronti di alcuni oppositori politici, mentre 78 persone sono indagate per i loro post sui social media. Torniamo ora sull'attentato di ieri alla sinagoga di Halle in Germania. È stato arrestato il 27enne neonazista tedesco Stefan Bagliet, autore dell'attacco, trasmesso in diretta web su un sito per videogiochi. Per adolescenti, gli ebrei sono la radice di tutti i mali, il suo grido antisemita. Marco Bergamaschi. Due morti e due feriti è il bilancio dell'attacco antisemita di Stefan Bagliet, 27enne neonazista davanti alla sinagoga di Halle in Germania. Un raid che ha gettato nel panico la città prima che il killer venisse accatturato dalle forze dell'ordine, evitando una strage ben più pesante. L'uomo in divisa militare con una mini telecamera sull'elmetto ha sparato in strada e lanciato ordigni, cercando in vano di fare irruzione nel tempio dove si celebrava la festa dello Yom Kippur, poi ha ucciso una passante e un uomo in una tavola calda. L'attentatore ha filmato e postato un video su un sito di videogame e dieci giorni fa, secondo alcuni media, avrebbe pubblicato su internet un manifesto contro gli ebrei. Il Ministero dell'Interno ha confermato le motivazioni antisemite dell'attentato, che riaccende l'incubo del razzismo e della xenofobia dell'estremismo di destra. Il Presidente del Consiglio Centrale degli Ebrei in Germania, Josef Schuster, ha definito scioccante la sparatoria e chiesto più protezione per la comunità ebraica, in segno di solidarietà con la stessa comunità. Il Cancelliere Merkel ha partecipato a una veglia davanti alla nuova sinagoga di Berlino. Vogliamo in Ecuador per approfondire ciò che sta accadendo. Da una settimana, Paese segnato da grandi tensioni contro la decisione del Presidente Moreno di revocare i decennali sussidi per il carburante. Proteste sempre più intense, scontri e arresti. Il punto lo facciamo con Maurizio Dischino. L'Ecuador da una settimana è una pericolosa polveriera. Anche ieri, infatti, le strade del centro storico della capitale Chito sono state segnate dagli scontri tra polizie e manifestanti, i quali hanno scioperato ancora per chiedere la revoca delle misure di austerità annunciate il 2 ottobre scorso e soprattutto il ritiro del decreto che azzera i sussidi ai prezzi dei carburanti in vigore da oltre 40 anni. Ma anche ieri la protesta di autotrasportatori, tassisti, studenti, popoli nativi e sindacalisti è sfociata in guerriglia. Tutto l'Ecuador viene insultato dal dover lavorare per sostenere i dipendenti pubblici che guadagnano un buon stipendio e solo i poveri sono in grado di mangiare una volta al giorno, ha espresso ieri con rabbia un manifestante per le strade di Chito. Nel paese è stato imposto il coprifuoco tra le ore 20 e le ore 5 del mattino successivo nelle aree con edifici e strutture strategiche. Rimarrà in vigore per i 30 giorni di stato di emergenza cominciato il 3 ottobre scorso. Nel frattempo il presidente Lenin Moreno ha trasferito il suo quartier generale dalla capitale Chito alla città costiera di Guayaquil che ritiene un ambiente a lui più favorevole. Proprio a Guayaquil infatti ieri hanno manifestato contro Moreno ma anche in suo sostegno. La politica italiana le prese con la legge di bilancio da definire. La nuova manovra avrà un valore di 30 miliardi, prevede dal taglio del cuneo fiscale al salario minimo orario, nuova riscrittura per il decreto clima con il bonus rottamazione esteso anche ai motorini. Augusto Cantelmi. Dopo il via libera del Senato la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza passa anche alla Camera. Lunedì invece dovrebbe essere varata dal Consiglio di Ministri e inviata a Bruxelles per essere esaminata. Tra le novità della legge di bilancio nel pacchetto famiglia insieme agli asili nido gratis previsto l'allungamento del concedo obbligatorio di maternità che oggi dura 5 mesi. Raddoppiare quell'obbligatorio di paternità che passerebbe dai 5 giorni di oggi a 10. Il Governo proverà anche a rendere strutturali, quindi stabili, le agevolazioni fiscali per la ristrutturazione, la riqualificazione energetica e l'adeguamento sismico delle abitazioni. Inoltre un bonus da 50 euro alle famiglie meno abbienti, già questo Natale, per l'acquisto di decoter della TV digitale. Per quanto riguarda le entrate, l'obiettivo del Governo sarebbe quello di recuperare 9 miliardi dalla lotta all'evasione. Nel Consiglio dei Ministri del pomeriggio invece arriva una prima parte della legge di bilancio 2020, il cosiddetto decreto ambiente. Tra le novità tornano gli incentivi con un contributo massimo di 5 mila euro per gli esercenti che attrezzano angoli verdi per prodotti sfusi o alla spina nei propri negozi. Nell'ultima versione del decreto conferma pure per il buono mobilità di 1.500 euro per la rottamazione delle auto euro 3 e 500 euro, per i motocicli euro 2 e 3, a due tempi da usare per l'acquisto di un abbonamento al trasporto pubblico. Occhi puntati anche sull'affare Alitalia, perché ritornano in partita salvataggio anche i tedeschi con Lufthansa. L'operazione servirebbe sostanzialmente a tagliare fuori dalla Delta Airlines, approfittando delle frizioni fra la compagnia americana e gli altri attori, fra cui Ferrovie dello Stato e Atlantia. L'offerta vincolante di acquisto dovrebbe essere presentata entro il 15 di ottobre. Il vettore tedesco si è candidato tramite una lettera inviata alle Ferrovie con la proposta di offrire un appoggio esterno però all'operazione. Candidatura valutata positivamente anche dal gruppo Atlantia, la holding della famiglia Benetton, che comprerebbe il 35% della nuova Alitalia, puntando soprattutto sulle rotte a lungo raggio, oltreoceano quelle più remunerative, ma sulle quali la Delta non vorrebbe fare investimenti. E ci sono buone notizie per il Sud Italia, perché in Tesa San Paolo ha annunciato un piano di investimento da 30 miliardi di euro per rilanciare il mezzogiorno italiano. Fra i settori su cui promuovere uno specifico investimento al Sud ci sono quelli alimentare, aerospaziale e automobilistico. A darne notizia il consigliere delegato del gruppo Carlo Messina, che ha parlato di un piano pensato per sostenere imprese e famiglie del mezzogiorno italiano. Se il Sud non accelera, ha detto Messina, non è solo l'Italia, ma tutta l'Europa a non accelerare. L'intenzione è quella di posizionare nel mezzogiorno italiano start-up e aziende dove impiegare soprattutto i giovani e in generale gli under 45. Ora la curiosa diatriba sui cartelli stradali luminosi che indicano una zona a traffico limitato. Finora, lo sapete, c'erano le scritte varco attivo oppure varco non attivo, ma il Ministero ha stabilito di cambiarle perché prese alla lettera significavano l'esatto contrario. Che cosa hanno deciso allora di scrivere e sarà davvero tutto più chiaro? Sentiamo Pierluigi Vito. Alzi la mano l'automobilista che almeno una volta nella vita non ha tremato davanti a questo cartello. Nella selva oscura dei segnali stradali, quelli che sbarrano il transito alla diritta via delle vetture e causa il palesarsi dell'ingresso a una zona a traffico limitato, sono sempre stati tra i più temuti. Anche perché imboccare una ZTL all'orario sbagliato, o senza possederne i requisiti, costa caro, con sanzioni che vanno dagli 84 ai 335 euro. Multe selvagge e aspre e forti hanno sempre contestato gli automobilisti, appellandosi alla confusione lessicale generata dalle scritte sulla segnaletica elettronica, varco attivo e varco non attivo. Essendo la parola varco sinonimo di passaggio, la grammatica spingerebbe l'utente motorizzato ad accogliere la copiata con l'aggettivo attivo come un via libera. E invece no. Le normative hanno sempre interpretato il messaggio in senso opposto, nonostante il biasimo dell'Accademia della Crusca, indignata per una comunicazione eccessivamente ellittica, diciamo pure fuorviante. Ma finalmente si torna a rivedere le stelle, ed ecco apparire le nuove linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che prevedono per i pannelli a messaggio variabile le più comprensibili diciture ZTL attiva e ZTL non attiva, con tanto di versione inglese. Un atto che, oltre a benindirizzare il traffico veicolare, servirà a portare pace tra guidatori, pubblica amministrazione e lingua italiana. Panico stamattina in una scuola di Foligno. Uno dei genitori si è barricato nell'istituto con una cintura esplosiva, minacciando di farsi esplodere. Si tratterebbe di un uomo di mezza età, la cui figlia frequenta la scuola. Subito sono stati fatti evacuare sia i bambini più piccoli delle elementari che quelli delle medie, mentre l'uomo chiedeva di parlare con i magistrati. Da Spoleto, allora è arrivato uno dei PM accompagnato dalla polizia, che hanno convinto alla fine l'uomo a desistere portandolo in procura. Sembra che il genitore sia destinatario di un provvedimento di allontanamento dalla figlia e che era andato a scuola per riprendersela, ma il personale scolastico, già debitamente informato, non glielo ha consentito. Tre rapine in rapida successione con l'uso di armi. Una banda di rapinatori violenti composta da tre persone finite in carcere nella capitale con numerosi capi d'accusa. I tre si sono resi protagonisti di una mattinata, lo vedete dalle immagini, criminale lo scorso 11 settembre quando compirono tre rapine a mano armata in due bar, uno sulla Casilina, uno a San Cesario comune di Roma Sud. La terza rapina a mano armata sempre a San Cesario ma in una sala slot. Nel primo bar la rapina fallì per la resistenza del barista, poco dopo l'attacco al secondo bar, ma la cassa era vuota. Allora a mano armata ancora minacciarono i presenti svuotando i loro portafogli. Infine, come terzo tentativo, puntarono a una sala slot facendosi consegnare 2.500 euro in cassa e sparando perfino a un vigilante. Tutti e tre i rapinatori sono finiti in carcere. Capiamo argomento. Ricorre oggi l'obesity day in Italia. In Italia è allarme, soprattutto per l'obesità infantile. Troppe merendine per figli e nipoti e così uno su tre e in sovrappeso addirittura obeso. Meglio il caro vecchio pane e pomodoro di un tempo. Seguiamo Francesco Durante. Sono italiani i bambini più obesi del vecchio continente davanti a ciprioti, greci e spagnoli. 100.000 in totale nel nostro paese con una prevalenza dei maschi sulle femmine, uno su tre nella fascia d'età tra i sei e i nove anni. Un primato certo da non invidiare, emerso dalla seconda edizione del report di Help Code sulla malnutrizione infantile, diffuso in occasione dell'odierna giornata mondiale contro l'obesità. L'impatto maggiore del mangiare in modo sbagliato si registra nelle famiglie con un più basso livello di scolarizzazione, come avviene al sud. In campagna oltre il 40% dei bambini sono sovrappeso o obesi, seguiti dai coetanei di Molise, Calabria, Sicilia, Basilicata e Puglia. Per contrastare la malnutrizione è quindi fondamentale un'adeguata educazione alimentare, ma non solo. Secondo l'osservatorio del Ministero della Salute, infatti, la maggior parte dei bambini tra i 4 e i 10 anni adotta uno stile di vita sedentari e solo uno su quattro raggiunge la scuola a piedi o in bicicletta. È necessario quindi affrontare il problema il più precocemente possibile, raccomandano i medici dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù per evitare l'eccesso di peso e l'obesità non servono diete, ma stimoli a cambiare lo stile alimentare e di vita in generale. Parliamo ora di inquinamento del mare invaso dai rifiuti, in particolare in Italia, secondo l'ISPRA è il fondale del mare di Sicilia, quello tra i più invasi dalla plastica. Clara Iatosti. Il mare è un'enorme discarica e il 77% dei rifiuti è pura plastica. Uno studio dell'ISPRA sui fondali marini del bel paese rileva che la situazione è ormai degenerata. Secondo l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, la situazione è molto grave, soprattutto per quanto riguarda i fondali di Sicilia e Sardegna. E la situazione non migliora a lungo spiagge e litorali nazionali, che ospitano dai 500 ai 1000 rifiuti ogni 100 metri di spiaggia. Importanti allora il ruolo e la collaborazione dei pescatori. Nelle loro reti si trovano ormai più scarti che pesci. Basti pensare che nei sei anni di rilevazioni sono state raccolte nell'Adriatico 194 tonnellate di rifiuti. Sul tema è in discussione alla Camera un disegno di legge, cosiddetto salvamare, che in sostanza consente ai pescatori di portare a terra i rifiuti raccolti nel corso della loro normale attività di lavoro. E' il momento di terza pagina. Non perdetevi la nuova stagione dell'Accademia di Santa Cecilia. Roma e il Tg2000 torna alle 18.30. Grazie per l'attenzione. Arrivederci.